Tre tool fantastici più uno, tutti complessi e semplici allo stesso tempo per fare un bel backtesting di tutto, soprattutto dei vostri etf, ma in alcuni casi anche delle azioni singole, per cui se volete conoscere questi tre più uno, beh, aspettate fino alla fine del video. Il backtesting è importantissimo, in due o tre video precedenti abbiamo visto come questo possa essere utile per capire quali sono le performance dei nostri etf quando andiamo a creare un nostro portafoglio. In realtà con uno di questi, e se ve lo ricordate lo avete visto, è possibile anche fare backtesting di tipologie di azioni di tipo americano, nonché di asset class. Adesso andiamo a vedere tutti e tre più uno, di cui uno particolarmente complesso, due un po' più semplicistici e in particolare molto più adatti a noi investitori europei, e il quarto, quello bonus, che è una manna dal cielo. Ovviamente li faccio vedere in maniera molto ma molto sistemica e per cui in maniera generale, ma se volete un approfondimento fatto bene, beh, fatemelo sapere nei commenti qui sotto che le approfondisco uno tutti con molto piacere. Cominciamo, andiamo a schermo. Ed eccoci sul primo sito, lo avete già visto quando ho fatto i backtest dei vari portafogli di etf, lo conoscete tutti, spero, Portfolio Visualizer. Uno degli strumenti più completi, secondo me il più completo che vi propongo proprio all'inizio, i portafogli che andiamo a testare in questi primi tre tool sono identici, e praticamente andremo a comparare le S&P 500 con un 70% di Word e un 30% di Nasdaq 100, perché oggi mi va così. Andiamo subito a vedere cosa troviamo nell'arco di questo backtest. Abbiamo inserito i ticker dei due asset e la percentuale. Per tutti i casi andiamo a mettere 10.000 dollari con il bilanciamento annuale. La prima cosa che ci dice il sistema è che l'MSI All World Country viene definito solo nel 2008, per cui il backtesting parte dal 2009, perché qui il backtesting è possibile su gli asset che ne danno la possibilità dal 1985. Prima di tutto ci viene dato questa schermatina in cui ci viene detto in un grafico a torta come stiamo allogando le nostre risorse, quello che sono i rendimenti dei portafogli, ce ne creiamo più di uno, in questo caso abbiamo il nostro più il Valgan S&P 500, con i 10.000 dollari che nell'arco temporale presi in esame, per cui dal gennaio 2009 a luglio 2023, quale sarebbe stato il rendimento? Questo è il CAGR all'ordo dell'inflazione. Se andiamo sulla i, possiamo vedere il rendimento al netto dell'inflazione, che è il 10,47% per il nostro portafoglio e l'11% per il Vanguard 100. Ci viene detto anche qual è il nostro anno migliore, il nostro anno peggiore, il massimo drawdown, lo sharp ratio, il sortino ratio e la correlazione col mercato. Inoltre ci viene detto in termini logaritmici e anche con l'aggiustamento all'inflazione, possiamo cliccare qui qual è il rendimento del nostro portafoglio e dell'S&P 500, i ritorni annuali dall'anno preso in considerazione dei nostri portafogli e dell'S&P 500 e il trailing return totale e annualizzato per i due portafogli. Ovviamente poi c'è qui una serie di puntualizzazioni che vanno lette per chi volesse capire meglio i dati. Poi andiamo a vedere tutti questi bottoncini, per esempio le esposizioni, qui ci viene detto quanto ad esempio siamo esposti alle large cap value, alle large cap growth, alle mid cap value, mid cap growth e così via. Ci viene detto anche la categoria di quello che è il nostro investimento, per cui per l'All Campy World abbiamo un global large stock blend, mentre per l'Invest QQQ abbiamo un large growth. Ci viene fatta anche una puntualizzazione su quelli che sono le varie tipologie di settori in cui andiamo a investire. La tecnologia ovviamente avendo il QQQ è la più presente, col 31%, ma abbiamo anche i materiali di base, i consumi ciclici, i servizi finanziari, i REITs, i consumi difensivi e così via. In questa schermata invece abbiamo i nostri ritorni annualizzati attivi, sia per l'S&P 500 e poi quelli cumulativi del nostro portafoglio e del Vanguard appunto 500, per cui l'S&P 500. E anche i ritorni attivi a rischio sui 36 mesi precedenti, quando il nostro portafoglio è andato sotto il benchmark, sopra il benchmark e appunto il totale anche relativamente al mercato di riferimento. Abbiamo inoltre un'altra schermatina che si chiama le metriche e ci viene detto metricamente tutta una serie di dati, come ad esempio la volatilità, il beta, l'alfa analizzato, quindi il rendimento, lo sharp ratio e tutti quei rendimenti che possono essere interessanti per un investitore professionale. Questo portafoglio visualizzati e questa è la versione gratis, ma se andate nella modalità pagamento vi vengono date ancora più metriche da gestire, per cui è un tool molto professionale. Ci vengono dati anche i ritorni annuali per il singolo asset, in questo caso appunto per il nostro portafoglio e per il Vanguard 500. Dall'anno e dal primo anno preso in considerazione, incluso l'inflazione e il balance, per cui quanto avremmo avuto dei nostri 10.000 dollari dal primo anno in poi. Viene fatta anche una metrica su mese per mese, però insomma lascia il tempo che trova secondo me, a meno che non vogliate vedere in un determinato mese, ad esempio quando c'è stata una crisi, quel determinato portafoglio quanto abbia reso. In realtà questa variabile la potete vedere anche nei drawdowns, con questo grafico che ci viene detto per ogni anno qual è stato il drawdown in termini grafici. Poi abbiamo anche qui i periodi particolari stress, in questo caso troviamo solo il covid e non la crisi del 2008, perché appunto l'ETF sullo country world è stato creato successivamente, per cui non ha affrontato quella crisi con i vari drawdown che si sono andati a verificare negli anni successivi. Poi abbiamo i vari asset, in questo caso ci dice i rendimenti dei vari asset all'interno del portafoglio e come sono andati a performare. Ovviamente in questo caso noi abbiamo solo due ETF, però se avessimo mutazioni singole o bond ci sarebbe stato il dettaglio per tutto. E infine i rolling returns anno to anno, per cui a un anno quanto avrebbe reso, a tre anni e così via. Il secondo tool si chiama Curvo, che ho utilizzato molto qui da molti youtuber, vedo che anche il mio amico Massimo Cignotta lo usa. Ho inserito anche qui i stessi ETF per andare a vedere le informazioni che ci vengono date. Anche qui un ribilangimento strategico annuale, ci viene dato anche il rendimento di tipo logaritmico, il sommario di quello che è il valore investito e quello che sarebbe reso, sarebbe stato il rendimento nello suo portafoglio e il compound annual growth rate aggiustato all'inflazione con la deviazione standard e lo sharp ratio in questo punto. Abbiamo anche i vari ritorni anno su anno, in questo caso non so perché ha preso il 2008 di riferimento, ma anche l'altro tool non ha preso questo anno come riferimento, non so per quale motivo. Anche in questo caso ci viene dato un istogramma dei ritorni mensili, qual è la media appunto. Vediamo anche qual è stato l'impatto dell'inflazione sia in lineare che in logaritmico e il rendimento dovuto anche all'inflazione sia in maniera ideale che logaritmica. Abbiamo anche una schermata che ci dà i drawdown che sono andati a verificare anno per anno e la percentuale di perdita massima in un singolo anno che è stato il 14%. Ci viene detto anche qual è il minimo investimento, l'orizzonte di investimento, in questo caso ci viene dato 5 anni, ovviamente essendo tutti degli asset azionali, 5 anni è il minimo, secondo me 10 è l'ottimale almeno. Ci viene dato anche un forecast di rendimento negli anni successivi, nel 97% ci dice che potrebbe essere un ottimo rendimento, 84% un buono, 50% in media e così via. Ovviamente nessuno può prevedere il futuro, per cui si tratta semplicemente di una semplice stima che viene riportata anche qui su questo grafico. Abbiamo anche una serie di strategie di ribilanciamento che possono essere prese in considerazione nel caso si voglia di utilizzare questo portafoglio e anche la coordinazione col mercato rispetto al mercato di riferimento. Passiamo infine a ETF Replay, che è un altro backtesting tool che viene utilizzato dagli investitori europei. In questo caso avendo inserito qui a dettaglio tutto quello che ci serviva, i nostri due ETF e il benchmark di riferimento, cosa che in curvo io non ho trovato dove metterlo, ci viene dato subito sulla destra il totale ritorno del portafoglio e quello dell'S&P 500 e la volatilità del nostro portafoglio e quello dell'S&P 500 con i rendimenti sul grafico. Abbiamo anche delle statistiche di base esclusa all'inflazione che in questo caso viene portato qui in termini assoluti all'ordo dell'inflazione. Qual è stato il tracking error, la correlazione con l'S&P 500, lo sharp razzo e il massimo drawdown di ogni singolo portafoglio con le performance annuali di ogni singolo portafoglio e le componenti che vanno a ritornare, quello che è stato il ritorno delle componenti del portafoglio. In questo caso vediamo che il Nasdaq ha dato un maggiore peso al rendimento del portafoglio così come ha dato una maggiore volatilità. Per quanto riguarda il backtesting su ETF e repay si conclude in questo, quindi un backtesting molto ma molto semplice. Passiamo invece al bonus, a quello che è l'asset bonus che si chiama Portfolio Jarts. Questo è un tool molto complesso che permette di fare backtesting principalmente sulle asset class e poi in base alla nazione in cui ci troviamo andare anche a scegliere per conto nostro gli ETF e lui ci suggerisce degli ISIN. Infatti se andiamo sulla schermata iniziale di Portfolio Jarts, cliccando su Portfolio, ci vengono dati i maggiori portafogliolesi che sono conosciuti al momento. Il 712, l'All Season, il Classic 6040, il Corfori, il Coffee House, il Global Market e così via. Praticamente andando a cliccare su un portafoglio qualunque, andiamo a cliccare sul 4 Season, l'All Season di L'Italia, ci viene dato un po' di informazioni sul portafoglio, quali sono le allocazioni, chi l'ha creato e per quale motivo e quali sono tutte le dinamiche che governano nel portafoglio e anche i libri che ne vanno a parlare. Detto questo, ci viene detto come è allocato il portafoglio tramite questo grafico, quali sono i ritorni annuali per il portafoglio in media sulle varie frequenze, l'equalizzazione del portafoglio sull'asset, l'accuratezza del target, quindi di quello che il portafoglio si presume di voler ottenere. L'ITMAP sarebbe quello che mese dopo mese, nei vari anni, il portafoglio è andato ad ottenere. Abbiamo anche dei grafici che ci vanno a inserire, qual è la crescita del portafoglio e del valore, diciamo, del portafoglio nell'arco temporale preso in esame. Anche qual è il saving rates, ad esempio, se noi vorremmo ottenere un tot di guadagno annuale, qual è l'importo che dovremmo andare a investire e in che arco temporale. E anche se abbiamo uno starting value, per esempio, se avessimo già investito 10.000 euro, 20.000 euro, tutti in una botta, potremmo inserirle qui. Andiamo a vedere anche i vari drawdowns per ogni anno e i rolling returns. Anche quali sono i long term returns del portafoglio e una serie di dati che sono veramente completissimi. E, arrivati ad un certo punto, quale sarebbe il withdrawal rate, per cui il tasso di prelievo che si vuole prendere, appunto, dopo un tot di tempo, se si vuole stare pensionati per un tot di anni. Mettiamo l'anno qui e lui, in automatico, ci va a dire qual è la percentuale di prelievo che si dovrebbe andare a fare. Ad esempio, se io vado a mettere qui 40, quindi se io voglio andare a prelievare per 40 anni, lui, in automatico, mi andrà a dire qual è il tasso di prelievo. E, in questo caso, ci andrà anche a dire, in termini fisici, quanto possiamo spendere di quel milione di euro che siamo andati a mettere da parte in base alla percentuale di prelievo annuale. E anche quando questo possa impattare sul valore del nostro portafoglio. Ovviamente questo è un tool molto complesso che ci permette di fare analisi sui singoli portafogli ma, se ad esempio noi volessimo andare a creare il nostro portafoglio, andiamo su Charts, andiamo a creare un portafoglio solo fatto per noi e da questo menu a tendina riusciamo a selezionare anche i vari paesi. Noi andiamo a selezionare Italia perché, in questo caso, va anche a capire qual è l'inflazione storica del paese. Possiamo anche andare a cliccare sul tasto Find ETF per trovare i fondi che ci servono, appunto, per la nostra asset class e ci viene data la spiegazione. Se noi volessimo andare a investire sulle large cap dei mercati sviluppati, cliccando su questo menu a tendina, sceglieremo developed perché questo è developed ex US e in questo caso, se noi mettessimo 100, saremmo a mettere un all country per i mercati sviluppati, cancellando queste due voci. Sul mercato italiano, in automatico, ci andrebbe a dire qual è la percentuale di rendimenti verificata e stimata nel nostro portafoglio per capire quali sarebbero i ritorni effettivi, anche quali sarebbero le space ratio dei vari ETF che andiamo a inserire perché, in questo caso, appunto, il sistema va a prendere anche gli ETF che sono utilizzabili da noi, ad esempio, europei. Cliccando su Toolkit, si può anche andare a fare un upload dei nostri dati a disposizione e, in questo caso, il sistema andrebbe anche a fare il calcolo completo di quello che è i rendimenti del nostro portafoglio o dei nostri dati. Ovviamente questi sono tool a pagamento che, però, sono molto, molto avanzati e non tutti ne hanno bisogno. Però, ovviamente, volevo semplicemente andarlo a fare vedere perché, in questo caso, ad esempio, si può scaricare un tool completamente gratuito che è un esempio di quello che sono le informazioni che si possono andare a trovare su questo Toolkit, nel caso lo si voglia andare a scaricare. Bene, spero che questo video sia stato di vostro assoluto interesse e che questi tool siano stati particolarmente utili o che saranno utili in futuro per fare i vostri particolari backtesting che siano questi di ETF o semplicemente del mercato azionario o di qualsiasi asset voi vogliate analizzare. Ovviamente, vi ricordo che non erano delle dinamiche approfondite su questi tool, ma, se volete, come ho detto all'inizio, fatemelo sapere nei commenti che ne approfondisco uno o più di uno con molto piacere, perché alcuni sono particolarmente complessi. Ricordandoci che questi video non sono né un consiglio a investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e informativo in ogni caso, se questo contenuto ha dato un contributo aggiuntivo alla tua vita fammi capire il tuo credimento con un bel pollicione in su. Inoltre, se sei nuovo su questo canale potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza, la tua iscrivendoti al canale e cliccando nella campanella delle notifiche. Io ti saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, a presto!